Ne è anche il tempo di esultare e di riempirsi la pancia con i tre punti che è già ora di scendere di nuovo in campo. Il campo basso a meno di tre giorni dalla sfida vinta sulla Vispesaro è pronto per affrontare la trasferta di Pontedera per chiudere il mini tour de force. Cambierà sicuramente qualcosa per dare fiato a qualche elemento apparso meno in palla. Centrocampo per esempio dove Baldassin e Prezioso sono in rampa di lancio. In difesa potrebbero partire invece titolari Bosizio e Calabrese senza dimenticare Mondonico. Tornando al successo di giovedì queste le parole di Piero Braglia. Noi abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo a parte i primi dieci minuti in dove si soffriva. Secondo tempo non si è giocato. Onestamente ci siamo solo difesi, non si ripartiva, gente stanca, ragazzi sotto tono tipo per l'iteria rispetto a quello che ci aveva abituato nell'altra gare. E poi ce li portavamo in casa, portandoceli in casa e non riuscendo a palleggiare. Poi vedi, basta una mezza palla e poi rischi di buttare via una partita che secondo me nei primi 45-50 minuti per come l'avevo interpretata meritavi di vincere. Alle 18.30 il fischio d'inizio della gara che sarà arbitrata dal signor Leonardo Mastro Domenico della sezione di Matera, assistito da Leotta di Acireale e Petrov di Roma 1, quarto uomo, meta di Vicenza.